Se ne è parlato tanto nell'ultimo periodo di un suo trasferimento da Grigento, adesso è confermato. Il capitano Gabriele Treleani, che ha guidato la tenenza di Favara per sette anni, lascia la città dell'Agnello Pasquale per trasferirsi nella vicina Grigento per ricoprire un prestigioso incarico, ovvero quello di capo ufficio comando del comando provinciale dell'arma Carabinieri. Originario della provincia di Udine e con pregresse esperienze operative nel settore della tutela ambientale, aveva sostituito da sottotenente il tenente Roberto Dinunzio, trasferito a qual tempo al nucleo investigativo di Grigento. In meno di due anni arriva per Treleani la promozione a tenente, cinque anni dopo il grado di capitano. Insomma, Favara è nel cuore del capitano Treleani, qui ha anche incontrato la sua sposa. Come non ricordare la bella cerimonia ufficiata da Don Mimmo Zambito, ex arciprete di Favara, adesso a Lampedusa. Dopo sette anni di guida lascia, come detto, Favara. Ultimi giorni di lavoro per lui, caratterizzati dal disbrigo delle ultime cose e dai saluti. Già da mercoledì, quarto 18 ottobre, prenderà servizio da Grigento. Al capitano Treleani vanno i nostri migliori auguri e soprattutto ringraziamento per il lavoro svolto in questi sette anni nella città di Favara.